Allora, siccome già stanno uscendo gli spoiler della puntata con le mie perle che mi scoccio volevo dire che io mi assumo la mia totale responsabilità su quello che ho detto e su quello che tuttora penso E perché ci andavi a letto con lei? Eh, scusa ma Che ce l'ha? Come ce l'ha? Non lo so A tener oro Saga, pausa Pausa perché pensiamo a giocare a male lì, soccorso Pausa So qua bene niente, mi ha bloccato tu elef 1.300 euro di elef Ancora già va a prima rata, pausa